Con noi il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, che è anche il portavoce in Sicilia di questo movimento. La vittoria schiacciante del No è anche da attribuire alla lotta dei 5 Stelle per il No e al suo leader Grillo. Ha vinto il No, però tutto sembra infariato, si parla di un Renzi bis? Al vinto il No e secondo me i cittadini hanno detto oggi più che mai che sono stanchi dell'uomo solo al comando, che sono stanchi dell'idea di paese, di un personaggio che possa rappresentare milioni di cittadini. Vogliono invece votare, vogliono esprimere la preferenza e vogliono diventare milioni di cittadini che rappresentano un'idea. E quindi è sostanzialmente diverso. Allora che si deve fare? Noi lo diciamo già da qualche giorno, da quando il referendum è finito, da lunedì 5, che si deve fare immediatamente una legge elettorale con le deduzioni della consulta per far sì che sia una legge costituzionale e poi si deve andare immediatamente a votare. Cioè questo si può fare davvero nell'immediato, dare un governo agli italiani che sia un governo finalmente eletto dei cittadini con un Parlamento rappresentativo di quello che saranno le loro scelte e ricominciamo a crescere. Perché questa purtroppo alla fine di tutto comunque è stata un'Italia che per due anni si è occupata di una riforma che non ha interessato nessuno e non riguardava i bisogni della gente. Non si parlava di lavoro, non si è parlato di sicurezza, non si è parlato di tasse, non si è parlato di piccole e medie imprese, di agricoltura di qualità, di fare ripartire davvero i servizi ai cittadini. E questo ovviamente è stato il prezzo che poi alla fine chi, convinto di poter governare l'Italia in questo modo, con gli slogan, con tutto quanto, poi alla fine invece ha scoperto che gli italiani invece un cervello ce l'avevano e hanno chiaramente votato no. Però adesso il problema sta sempre lì nella politica, perché adesso c'è la pausa per le festività natalizie, qualche malpensante dice che nessuno se ne vuole andare a casa, quindi rinvieranno, rinvieranno e questa legge elettorale non si farà più. La legge elettorale la devono fare per forza di cose, perché comunque una legge elettorale ci vuole. E' chiaro che la sirena di settembre del 2017, nella quale questi 600 nuovi entreranno praticamente nelle grazie del vitalizio statale, li chiama in qualche modo e sicuramente non è improbabile che molti la pensino in questo modo. Devo dire che fra l'altro c'è stato pure qualcuno che è già dichiarato pubblicamente che sarebbe ingiusto non averlo. E' chiaro che questo è un utile privilegio, è quello che si definisce volgalmente una porcata, ma noi non possiamo permetterlo. I cittadini siciliani e italiani secondo me saranno chiamati a scendere in piazza se nessuno darà la risposta che questo referendum vuole che si dia, cioè quello di elezioni subito. Parliamo della situazione anche in Sicilia. In diverse trasmissioni è emerso che tanti siciliani hanno votato no anche per protesta contro Crocetta. Il Movimento 5 Stelle chiede da tempo le dimissioni di Crocetta. Crocetta non solo non intende dimettersi, ma intende anche candidarsi alle prossime regionali. Ma se Crocetta si candida, noi siamo i suoi sostenitori più forti, diciamo, perché dopo cinque anni di governo inesistente, di veramente l'incapacità al comando praticamente, all'amministrazione regionale, è chiaro che farebbe sicuramente a noi che siamo la parte politica avversaria e ci farebbe sicuramente un favore, anche perché io credo che non prenderebbe più neanche un voto. Giancarlo Cancellieri, candidato alla presidenza della Regione per il Movimento 5 Stelle. Ma questo lo decideranno, voi sapete la nostra trafila qual è. A marzo cominciamo, ci saranno sicuramente delle selezioni, faremo selezioni all'anno e quant'altro e vediamo che cosa succede. Io ci metto la faccia, insomma, come ce l'abbiamo messa già la prima volta, ce la rimettiamo di nuovo. Comunque vada, io sono convinto che il Movimento 5 Stelle ha una grossa chance. Questa volta giochiamocela e soprattutto conquistiamocela la fiducia dei cittadini siciliani.